In visita i familiari detenuti al Bassone hanno provato a consegnare droga ai carcerati durante il colloquio ma sono stati sorpresi dagli agenti della penitenziaria e arrestati. Due i blitz nella stessa giornata di ieri nella sala del carcere di Como destinata agli incontri con i parenti. Gli agenti della penitenziaria hanno lavorato anche con la collaborazione dell'unità cinofila della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. Il primo intervento ha coinvolto una 52enne di Milano in visita al compagno 53enne di Carbagnate. Dopo aver notato il passaggio sospetto di una busta gli agenti hanno accertato che la donna stava cercando di consegnare al detenuto 40 grammi di hashish. Il controllo è proseguito anche nell'abitazione della coppia dove sono stati recuperati altri 58 grammi di hashish. In una cantina vicina all'appartamento sono stati poi scoperti ulteriori 600 grammi della stessa droga e 500 di marijuana oltre a 5 proiettili di diverso calibro. La donna è stata arrestata. Nella stessa mattinata di ieri in sala colloquio al Bassone è scattato poi un secondo intervento per un canturino di 26 anni che aveva portato 22 grammi di hashish e 48 di eroina a un familiare, un 29enne di Ro detenuto al Bassone. Anche in questo caso il parente in visita è diventato in pochi istanti un detenuto. Per i due carcerati ai quali era destinata la droga le nuove accuse si sono ovviamente aggiunte ai reati per i quali già stavano scontando una pena.